Sarà un'indagine della procura di Lecce a fare luce sulla tragedia che ha visto come protagonista una bambina di soli due anni e mezzo, Ludovica Puce, di San Nicola, morta il 29 dicembre scorso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un improvviso malore. Ad uccidere la piccola, secondo quanto emerso dai successivi accertamenti clinici, sarebbe stata un'encefalite fulminante, probabile conseguenza di un banale virus influenzare. Compito della magistratura salentina sarà quello di valutare se vi siano state o meno responsabilità nel decesso da parte del personale medico che l'ha presa in cura a partire dal manifestarsi dei primi sintomi. Secondo la denuncia presentata dai familiari della vittima, la patologia non sarebbe stata riconosciuta dai sanitari in servizio all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, dove la bimba era stata portata in un primo momento la sera del 26 dicembre con 41 di febbre. I genitori assistiti dal loro legale hanno presentato un esposto alla procura di Lecce convinti che ci siano state delle gravi mancanze nell'operato dei medici del nosocomio gallipolino dove, sostengono, si sarebbe perso del tempo prezioso e dove alla piccola non sarebbe stato diagnosticato nulla di preoccupante. Secondo la denuncia presentata dai familiari, inoltre, la bambina sarebbe stata lasciata circa un'ora e mezza sul lettino senza cure e in stato di incoscienza. Solo dopo l'insistenza dei genitori, secondo la loro ricostruzione, la vittima è stata trasferita all'ospedale di Lecce in codice verde a bordo di un'ambulanza sprovvista di medico. Una volta giunta al Vito Fazzi, la bimba è stata subito visitata e le è stato assegnato un codice rosso. Quindi è stata sottoposta ad esami, ad un'attacca e infine intubata. Tre giorni dopo è sopraggiunto il decesso. L'ipotesi è che con una diagnosi tempestiva e soprattutto con un intervento più celere, la piccola si sarebbe potuta salvare.